Il senso di questa conferenza stampa, che tra l'altro cade in un giorno molto particolare, prima c'è stata la commemorazione della Presidente della Camera, noi abbiamo esibito le matite, un gesto di solidarietà molto forte nei confronti della Francia, di un Paese che oggi è attraversato da un lutto enorme, ma anche di una redazione di un giornale che ha segnato la storia degli ultimi 30 anni di quel Paese, un giornale libero, autonomo, che dimostra quanto la satira sia un'arte rivoluzionaria, temuta dai regimi e da tutte le forme di fondamentalismo.